attraverso il quale è possibile effettuare una donazione anche piccola. Ogni aiuto è importante per sostenere la tua TV. Il codice QR viene decifrato dalla fotocamera di qualsiasi dispositivo una volta installata e lanciata un'applicazione che riesca a leggerlo. Queste si trovano sul Play Store di un dispositivo Android e sull'App Store di iPhone. Cerca QR Code Reader. Inquadra il codice QR con il tuo cellulare e sostieni Teleradiopace con una donazione attraverso la piattaforma Paypal. Inquadra il codice e sostieni la tua TV. Ben ritrovati negli studi di Teleradiopace. Buona giornata a tutti da parte di Marco Revello. Eccoci insieme anche in questo giovedì 11 di marzo. E siamo arrivati quindi quasi in fondo anche alla seconda settimana del terzo mese del 2021. Ormai ci separano da Pasqua altre tre settimane di quaresima. Tre settimane ancora incerte dal punto di vista di quello che potremo o non potremo fare perché le decisioni del governo tardano ad arrivare. Un canovaccio un po' già visto. Questo titubare dell'esecutivo per prendere decisioni non certamente popolari che insomma seguono un po' quello che è stato un po' tutto l'anno trascorso dallo scorso 9 di marzo. Quindi ieri abbiamo ricordato proprio un anno dall'inizio del famoso lockdown e qua ci troviamo all'inizio di un periodo in cui insomma se non ci sarà proprio un lockdown generale perché viene abbastanza escluso ci saranno comunque delle ulteriori alimentazioni rispetto alle normali zone. E anche la Liguria in questi giorni con i dati che quotidianamente arrivano è un po' in bilico tra la zona gialla e la zona arancione. Ieri ci sono stati anche degli aumenti di ricoverati. Allora andiamo a vedere intanto abbiamo fatto un riassunto così del periodo in cui siamo vediamo anche che tempo fa quest'oggi così dando un'occhiata al di fuori dei nostri studi apriamo la finestra appunto sul Tiguglio vediamo appunto questa mattina un po' di nuvolosità l'avevamo prevista già da qualche giorno oggi e in parte anche domani saremo attraversati da queste correnti umide che porteranno quindi maggiore nuvolosità e qualche precipitazione. Non ci aspettiamo delle piogge particolarmente decise, intense e diffuse però ci aspettiamo delle precipitazioni qua e là soprattutto a partire dal pomeriggio verso sera le precipitazioni si faranno più probabili qua sul centro elevante della regione. Vediamo questa massa nuvolosa che si sta addensando proprio lungo il nostro litorale, lungo la nostra riviera non si tratta di una vera e propria perturbazione però di correnti umide che porteranno a fenomeni quindi tutto sommato moderati con delle temperature che rientrano un po' nella norma quindi aumentano le minime, diminuiscono di qualche grado le massime avremo meno escursione tra il giorno e la notte sicuramente. Questa situazione comunque durerà appunto fino alla mattinata di domani poi avremo un miglioramento che sarà più deciso nella giornata di sabato però attenzione perché il fine settimana è proprio l'insegna del tempo variabile quindi avremo alternanza di schiarite, di cielo sereno ma anche di annuvolamenti insomma domani daremo un po' una idea più generalizzata del weekend più precisa, più che generalizzata, più precisa del weekend e quindi avremo la possibilità di dirvi se domenica un po' di sole ci bacerà oppure avremo nuovamente delle nuvole. Per il momento è molto molto incerta la previsione. Andiamo invece a dire qualcosa di sicuro, di assolutamente accertato che è quello che troviamo sul calendario della Chiesa Romana. Santo del giorno, oggi la Chiesa ricorda e festeggia San Costantino, re e martire. La Chiesa greca riserva un posto importante a Costantino, appunto imperatore romano che riconobbe ai cristiani la libertà di culto. E poi andiamo a San Sofronio di Gerusalemme, San Teologio di Cordoba, San Pionio di Smirne, Beato Giovanni Righi da Fabriano, San Tongeus il Culdeo e poi San Benedetto di Milano, San Domenico Cam, Beato Giovanni sacerdote e martire, Santi Marco e Alessio martiri, Santa Rosina di Wengen, Vergine martire, Beato Tommaso Atkinson martire, Santi Trofino e Tallo martiri di Laodicea di Frigia, San Vindiciano di Cambrea Arras e San Firmano, Monaco. Oggi veramente tanti ricordati dal calendario. Auguri a tutti coloro che oggi festeggiano l'onomastico, i tanti Costantini e naturalmente auguri anche a coloro che oggi festeggiano il loro compleanno, l'anniversario è una rieta ricorrenza. E andiamo a vedere qualcosa di meno lieto, cioè le notizie che arrivano dal traffico, dalle strade e autostrade della nostra regione. Ci sono tanti cantieri aperti, lo sappiamo benissimo. Purtroppo ci saranno ancora dei tratti chiusi, il casello di Chiavari è ancora chiuso, lo sarà tutto oggi e tutto domani per riaprire, speriamo, altrimenti sabato mattina. E quindi abbiamo già delle notizie di rallentamenti. Iniziando proprio dalla nostra autostrada, la 12, abbiamo code in direzione Rosignano tra Genova Este e Recco, un chilometro di coda, è abbastanza ampio come spettro, ma Genova Este e Recco, un chilometro di coda, poi abbiamo invece la solita coda che è tra Genova Este e l'allacciamento con la 7, praticamente questa mattina siamo già a due chilometri di coda in direzione Genova, qui perché c'è la chiusura appunto dell'allacciamento tra la 12 e la 7 in direzione Milano fino a Genova Bolzaneto. Quindi anche sulla 7 ci sono rallentamenti, in particolare tra l'allacciamento a 7, a 12, a 10 in direzione Genova, praticamente da quando si incontrano le autostrade fino a Genova Ovest e abbiamo anche una coda di 3 chilometri tra Busalle e l'allacciamento con la 12 in direzione Genova, quindi per chi proviene dal Piemonte. A 10 che ieri ha vissuto momenti drammatici con la chiusura anche di un tratto tra Renzano e Voltri per un incidente che purtroppo ha avuto anche un morto come appunto i vittima, come bilancio, abbiamo questa mattina ancora una chilometro di coda nello stesso tratto, cioè tra Renzano e il Bivio con la 26 in direzione Genova. In direzione Ventimiglia invece abbiamo coda tra Genova Pra e Genova Voltri e terminiamo con la 26 che segnala 2 chilometri di Codra tra Voltri e Masone in direzione Gravellona-Torce. Anche qua grandi cantieri di lavoro aperto. Vedremo poi nel corso del nostro programma, leggendo anche le pagine locali del secolo XIX, che c'è addirittura l'idea di fare una class action contro la società autostrade. Per questo enorme disagio che sta portando alle nostre vite, agli spostamenti anche consueti, normali, quotidiani, che tanti Liguri sono costretti, non è che vanno in giro per divertimento, a fare e purtroppo anche a pagare il pedaggio perché sappiamo benissimo che nonostante i tanti cantieri da noi nel Tiguglio il pedaggio si paga regolarmente. Quindi si paga un servizio che in realtà è veramente molto, molto, molto discutibile. Andiamo a vedere invece, perché poi su questa situazione chiaramente non l'abbiamo determinata noi sicuro, andiamo a vedere invece cosa succede sulla rete ferroviaria. In questo momento non ci sono particolari ritardi da segnalarvi, almeno tra i treni in circolazione in questo momento tra Genova e la Spezia e nemmeno nella prossima mezz'ora. Quindi una mattinata ideale per viaggiare in treno. E allora da questo punto entriamo nella cronaca, entriamo nelle notizie del giorno, iniziando dal quotidiano avvenire, dalla prima pagina, Covid spazza benessere, così è il titolo del quotidiano della CEI. Andiamo a leggere di cosa si tratta. Azzerati dieci anni di crescita sostenibile su salute e lavoro, ma gli obiettivi ONU diventano anche Unione Europea. Il governo pronto alle nuove chiusure, ma non ci sarà lockdown nazionale e la curva dei contagi sale ancora. L'aspettativa di vita è scesa di 12 mesi, più vaccini dall'Europa si faranno anche nelle aziende, al sud si anticipa la stretta. E poi, lo avevamo anche visto ieri dal secolo XIX, si ricordano i dieci anni dal terribile terremoto che ha sconvolto il Giappone con 15.000 morti e anche uno tsunami che ha colpito la centrale di Fukushima. Nel 2011 terremoto, tsunami e cedimento della centrale. Fukushima, non ho mai capito bene l'accento, un viaggio nella trappola nucleare. E poi nel pubblico impiego la svolta di Draghi, formazione competenze aumenti con il Sì dei sindacati, quindi c'è anche una inedita collaborazione tra governo e sindacati sul modernamento del comparto pubblico. Dico inedita perché a tentarla di fare, questa volta il ministro Brunetta, che ricorderete qualche anno fa, sempre come ministro della pubblica amministrazione, ebbe un'opposizione incredibile da parte dei sindacati. Quindi evidentemente la presenza di Draghi è per tutti una garanzia. Mezzo si diletta per il PD, resta il nodo congresso, Enrico Letta sempre più vicino alla segreteria del Partito Democratico. E poi diagnosi condanna per i bambini autistici, genitori da preparare. E poi, sempre sulla prima pagina di Avvenire, troviamo questo editoriale a firma di Leonardo Becchetti, il metodo del futuro, virus e calma, le luci da accendere. Andiamo adesso a leggere la prima pagina del secolo XIX di oggi, che titola Covid, arriva la nuova stretta e la Liguria rischia nuovamente di andare in zona arancione. Siamo rimasti gialli tra pochissimi qua appunto nel nord Italia, siamo noi e la Val d'Aosta, ma i dati purtroppo stanno peggiorando. Domani il decreto Draghi, ma dalla Campania alla Puglia alcune regioni hanno già adottato di vieti più rigidi. Vaccini dagli orari alle forniture, ecco i nodi del piano Ligure, i gaslini, crescono i casi per i bimbi dell'asilo, perché questa è un po' l'altra faccia del Covid un anno dopo, cioè questa variante inglese che colpisce in particolare i bambini e i ragazzi e questo chiaramente mette a rischio anche l'apertura delle scuole. Domenica con il secolo, mascherine chirurgiche in regalo ai lettori e poi prenotazioni, scontro tra medici di famiglia e Liguria digitale, quello che è capitato nel primo giorno di prenotazione, che è andato un po' in tilt il sistema e appunto i medici ce l'hanno con la regione e viceversa. Ferrari SF21, sfumature di rosso per conquistare, presentata la nuova auto che insomma gareggerà nel prossimo Gran Premio. E poi Luna Rossa parte bene, l'American Cup non è un miraggio, l'avevamo detto ieri, c'è stato un 1-1 nella prima gara tra New Zealand e Luna Rossa. Poi Cagnotto, noi atlete costretti a scegliere carriera o famiglia, l'intervista alla grande campionessa di Tuffi, che parla appunto della condizione femminile anche all'interno dello sport. E poi parliamo di economia genovese, due grandi marchi di Genova, la Leonardo, Leonardo cerca un partner per l'automazione, l'Ansaldo Energia, parla l'amministratore delegato Marino, Ansaldo cresce, ora le rinnovabili. E ancora dalla prima pagina del secolo, addio a Marco Sciaccaluga, colonna del Teatro Nazionale, il Teatro di Genova è stato per anni una delle menti più creative di questo teatro, regista, anche lui interprete, è stato veramente protagonista con grandi spettacoli teatrali e a pochi mesi di distanza dalla morte di Repetti, che era l'ex direttore con cui lui lavorava gomito a gomito, purtroppo è morto anche Marco Sciaccaluga. Autostrade dopo il Morandi fu valutato il patteggiamento, l'intercettazione degli ex vertici di autostrade. Allora, dette, lette, anzi lette le prime pagine dei quotidiani, adesso andiamo anche a scoprire meglio la situazione meteorologica di queste giornate, una situazione che naturalmente, come avevamo già detto nei giorni scorsi, si vede nuovamente la presenza di correnti umide che arrivano appunto all'ambire, sommamente dall'immagine che ha Alessandro Bavestrello in regia, ci manda dei satelliti, appunto il nostro comparto, il nostro settore, possiamo vedere appunto le immagini dei satelliti, si stanno avvicinando ai nostri settori, vedete, dei flussi umidi, che poi sono praticamente i margini di una perturbazione molto attiva sui Balcani, quindi qui arriveranno le briciole, come si suol dire, e tra l'altro una delle poche zone ad essere interessate sarà proprio la Liguria di Levante, cioè dove ci troviamo, che avrà, diciamo, le maggiori ripercussioni, ma non saranno particolarmente efferate, anzi direi che saranno deboli come ripercussioni, perché avremo chiaramente, come già vediamo, un aumento della nuvolosità, con deboli precipitazioni che partiranno soprattutto dalle ore centrali della giornata. Venti al mattino tra deboli e moderati dai quadranti meridionali, con rinforzi nel pomeriggio fino a forti su imperiese raffiche fino a 60-70 km orari, mare da mosso in aumento a molto mosso ovunque, agitato in serata Levante per onda da sud-ovest e temperature in contenuta a diminuzione delle massime, in particolare qui sul Levante. Per domani, venerdì 12 marzo, assiste in meno ad un graduale dissolvimento della nuvolosità a partire da Ponente, con possibili residui e precipitazioni fino alle ore centrali soltanto qui sul Levante. Venti deboli e moderati meridionali fino al pomeriggio, poi rotazione e rinforzo da nord in serata ovunque, e mare molto mosso sul centro e Ponente ed agitato a molto mosso sul Levante. Le temperature nella giornata di domani vedranno un lieve calo nella seconda parte della giornata. Comunque siamo più o meno nelle medie stagionali del periodo, quindi né troppo alte né troppo basse, siamo più o meno appunto come dovremmo essere in questo periodo dell'anno. Quindi sabato molto probabilmente avremo una giornata buona, con la prevalenza di schiarite e di sole. Per quanto riguarda invece domenica, ancora un punto interrogativo, che poi domani tenteremo in qualche modo di tradurre in previsione i meteo, perché saremo più vicini al weekend. Va bene, allora chiudiamo questa parentesi dedicata, come ogni mattina, alla situazione meteorologica e andiamo invece a leggere i quotidiani. Siamo sulle pagine del Levante del secolo XIX. E allora riparliamo di un tema che è già stato affrontato ieri, cioè nel primo giorno di prenotazioni dei vaccini attraverso i medici di medicina generale. Naturalmente erano poche le categorie interessate, le categorie che hanno a che fare con il pubblico servizio, le forze dell'ordine. Ne parliamo di vigili, di polizia, carabinieri, di personale scolastico, nonostante, e poi naturalmente le persone cosiddette volubili. Nonostante appunto la ristrettezza dei soggetti che potevano andare a prenotarsi, in realtà già si è verificato un po' di ingorgo sui dati, in particolare sui portali che sono stati messi a disposizione dalla Regione. E quindi nella giornata di ieri è andata avanti un po' la cherel che abbiamo già visto tra Regione e i medici di base, cioè di chi è la colpa di questo ingorgo, di questo incidente di percorso, che poi nei primi giorni abbiamo visto tutte le cose quando partono, hanno delle partenze sempre un po' stentate, poi a manno che si va avanti con i giorni diventa un pochino più, per cui fare anche delle enormi polemiche su questo mi sembra un po' troppo esagerato. Però sapete, i giornali devono scrivere qualcosa, allora andiamo a leggere. Scontro sulle prenotazioni, ma ogni medico gestisce solo richieste prestabilite. Costanini di Liguria Digitale dice il programma è ok, previsto un tetto al numero di pazienti, Zampogna della Federazione dei Medici e di ENA di Federfarma dicono «No, le vaccinazioni non si fanno così». Quindi c'è ancora un po' di astio tra i due soggetti, purtroppo siamo nei giorni in cui bisogna collaborare e non scontrarsi, come ci insegnano anche i sindacati a Brunetta, che stanno andando d'amore e d'accordo in questi giorni, quindi bisogna farlo anche tra Regione e Medici, senza stare a perdere troppo tempo sulle polemiche. Certamente la partenza è stata difficoltosa, e questo, come abbiamo detto, non succede solo sul piano vaccinazione, ma un po' su tutto, ma poi si inizia a correggere il tiro. Purtroppo dobbiamo segnalare qualche numero di aumento per i contagi. Ieri sono stati 21 i nuovi casi registrati nella ASL 4 e sono aumentati anche i pazienti ospedalizzati, che erano scesi anche sotto i 40, adesso siamo già a 45 gli ospedalizzati, di cui 7 in terapia intensiva, quindi c'è un aumento anche di 2 malati in rianimazione. 6 gli istituti scolastici chiusi in maniera preventiva, i treplessi di Nè del comprensivo Cogorno, il nido San Girolamo e la scuola dell'infanzia del comprensivo Rapallo, e il nido Soracco di Chiavari. 600 il totale degli studenti e del personale scolastico dell'istituto di ogni ordine grado, che in questo momento sono in quarantena e quindi insomma sono lontani dalla loro sede di lavoro o di studio. E poi andiamo alle somministrazioni a Camogli, consegna in ritardo, caos davanti alla Croce Rossa, quindi non sono arrivati in tempo i vaccini e si è formata una lunga coda di anziani, cosa che bisogna tentare un po' di evitare, perché a parte le code e gli assembramenti, poi tenere comunque delle persone anziane al di fuori, anche se sedute eccetera, non è mai una cosa bella, quindi anche questi sono incidenti di percorso che possono capitare, però insomma dovremmo tentare un po' di limitare questi fenomeni, diciamo così. Tamponi a Nè per riaprire, Rapallo lunedì torna a lezione, quindi la scuola di Nè farà dei tamponi a tutti i ragazzi per capire se è possibile riaprire, se non c'è ancora qualche positivo latente, diciamo da qualche parte, anche perché molti bambini non danno particolari segnali, non danno particolari sintomi, quindi in questo caso è anche più difficile andare a scoprire i positivi. E poi ancora dalla pagina del secolo XIX, le ultime proposte sulla neve in Val Daveto, quest'anno la stagione sciistica, sapete, non è partita, non per colpa del meteo, non per colpa della neve, ma per colpa del Covid, ci sono ancora delle attività che si possono svolgere al di fuori del fatto che gli impianti rimangono chiusi al pubblico, però si possono fare le ciaspolate, le passeggiate, le piccole cose, e non mancheranno in questo weekend, anche se non sappiamo bene di che colore dovremo diventare a partire da lunedì. Però è chiaro che anche questa spada di Damocle del nuovo DPCM, o di quello che sarà il decreto Draghi, insomma ci tiene un po' così, ancora sul chivala per il fine settimana. E poi stroncato dal Covid, Giuliano Trabucco, addio a Giulio, lo storico barbiere di Cicagna, purtroppo tante le persone che ci hanno lasciato in quest'anno per colpa di questa malattia. L'ultimo saluto appunto sarà oggi alle 15 nella chiesa di Cicagna. Vabbè, qua chiaramente ci sono un po' due lettere che vengono riportate al secolo XIX, di un giovane medico di famiglia, sistema caotico e lacunoso, una falsa partenza, e la risposta, fase di rodaggio, ma l'architettura funziona appunto da parte di chi gestisce le reti regionali. Come dicevamo, succede sempre, ricordate il click day per i vari bonus, con i portali in tilt, insomma queste cose le abbiamo già viste, queste cose le abbiamo già sperimentate, e poi piano piano, con il passare dei giorni, le cose sicuramente miglioreranno. Andiamo a parlare sempre dal secolo XIX, di come l'emergenza Covid sta cambiando anche il volto della Quaresima, anche i riti di Quaresima e poi i riti della Settimana Santa saranno un po' diversi dagli scorsi anni. Ricordiamo che l'anno scorso non c'è stato nessun rito, perché le chiese, come tutto il resto, erano chiuse e sbarrate anche nei giorni della Settimana Santa, anche nel giorno di Pasqua, quest'anno fortunatamente non sarà così, però appunto bisogna andare a modificare quelli che erano i riti più rischiosi dal punto di vista degli assembramenti, come per esempio le processioni, che non siano state celebrate nemmeno nell'estate, che avevamo chiaramente dei numeri diversi, figuriamoci ora. Quindi ecco le regole che la Curia e il Vescovo, l'ufficio liturgico della Diocese di Chiavari, ha emesso proprio per disciplinare meglio i riti della Settimana Santa e della Quaresima in questo periodo di Covid. Ci sono alcune modifiche, appunto, via Crucis senza processione, lavanda dei piedi vietata, Vescovo e ufficio liturgico danno le norme per contenere il disagio, le regole di tutti i riti. La Messa Crismale si terrà mercoledì 31 marzo alle ore 17 in Cattedrale a Chiavari, con la concelebrazione dei sacerdoti, giovedì santo, Messa in cena domini, vietata la lavanda dei piedi, come d'altronde anche nel giorno del venerdì santo non sarà possibile fare appunto la via Crucis per la città o comunque qualsiasi tipo di processione. Però ci saranno tutti gli altri riti, come la celebrazione della Passione Domini e comunque una via Crucis magari da fermi si potrà anche fare. E poi naturalmente il sabato santo con la veglia pasquale sulla porta della Chiesa il sacerdote veniderà il fuoco, preparerà il cero, i fedeli rimarranno al loro posto e non avranno in mano le candele. Anche questo è un gesto che caratterizza la veglia pasquale e invece quest'anno non sarà fatto proprio per evitare il passaggio da una mano all'altra di cose, di oggetti, eccetera. Come sapete anche i foglietti della Messa non sono più riciclabili, sono diciamo monodose, monouso, eccetera. Quindi insomma cambiano ma di poco poco i riti. Naturalmente si inizia con la Domenica delle Palme, con i fedeli già in chiesa fermi al loro posto, la benedizione avverrà in chiesa, si muoveranno verso l'altare solo vescovi e sacerdoti. Queste sono le cose che vengono organizzate chiaramente per i riti all'interno della Cattedrale di Chiavari ma è anche un'indicazione per tutte le parrocchie quindi si dovranno evitare tutte le forme di processione e di passaggio da una mano all'altra di oggetti, di candele, di foglietti. Quindi questo è un po' il regolamento previsto proprio per evitare contagio e sappiamo che non è mai stato verificato nessun tipo di focolaio all'interno di celebrazioni eucaristiche o cos'altro. Quindi le cose sono sempre state fatte a regola d'arte come il legislatore aveva diciamo così provveduto a prevedere insieme alla CEI quindi questo patto non si è neanche sciolto durante l'estate quando invece era stato un po' dato liberi tutti quindi a maggior ragione in questo periodo così delicato. Andiamo sempre a Chiavari la società economica si affaccia sul web nell'era Covid il presidente Bruzzo la società compie 230 anni e si adegua ai tempi ci sono tante iniziative quindi quest'anno che non saranno prese in presenza almeno in questa parte dell'anno ma potranno essere invece usufruite da parte di tutti attraverso il web come d'altronde si sta facendo ormai da un anno a questa parte che con le letture del bibliotecario ed altri incontri che comunque sono andati avanti ma con modalità diverse dal solito Chiavari una barca in chiesa a San Giovanni ecco che cosa significa è una lancetta diciamo e appunto a spiegarlo è Don Paolo Pagigalupo l'idea è nata nel Consiglio Pastorale per cercare di sviluppare alcuni temi durante la Quaresima partendo da alcuni messaggi di Papa Francesco ricordate anche la sua frase famosa dell'anno scorso proprio in questi giorni era il 27 di marzo siamo tutti sulla stessa barca che è una frase che poi è stata ripresa da chiunque in questo anno perché la situazione è proprio questa l'umanità intera è sulla stessa imbarcazione esattamente come quella di Gesù e dei suoi apostoli e quindi la barca è un segno è un segno un simbolo molto importante in Quaresima Don Manzi tre incontri con il teologo e biblista a Chiavari tre appuntamenti di riflessione al tempo del Covid tre incontri con Cristo luce nelle tenebre il teologo e biblista Franco Manzi a proporre il percorso che si svolge in cattedrale dalle 19 alle 20 e trasmesso in differita alle 21 su Telepace al Telepace 4 al canale 218 sono tutte le parrocchie dell'ambito Chiavari-Levi-Camposasco come esercizi spirituali proprio in preparazione della Pasqua e quindi appunto il primo appuntamento sarà martedì 16 dal titolo La fede cristiana la prova della sofferenza poi le relazioni sospese la psicoterapeuta Sica sul bandolo social a Chiavari quindi il solito incontro che parte a partire dal venerdì alle 8 del mattino poi rimane naturalmente sul sito per tutta la settimana Allora a questo punto prima di dare la linea alla Radio Vaticana perché ormai si stanno avvicinando le ore 8 vediamo ancora un aggiornamento da strade e autostrade della nostra regione abbiamo una coda tra Recco e Rapallo in direzione Rosignano Recco-Rapallo abbiamo un chilometro di coda per lavori poi ancora coda tra Genova Est e Recco sempre in direzione Rosignano quindi un codone quasi unico da Genova Est a Rapallo e poi in direzione Genova invece abbiamo coda tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 abbiamo sempre rallentamenti e code sulla 26 nel tratto iniziale tra Voltri e Mazzone in direzione Garvelino-Tosce quindi direzione Piemonte sulla 10 abbiamo coda tra Genova-Pra e Voltri in direzione Ventimiglia e tra Renzano e Voltri in direzione Genova ed infine sulla 7 coda tra Busalli all'allacciamento con la 12 in direzione Genova e coda anche tra l'allacciamento della 7 a 12 e l'allacciamento della 7 a 10 se abbiamo ancora un secondo un minuto di tempo per vedere qualche immagine non sappiamo perché veramente ormai siamo allo scadere della nostra prima edizione del Tg Rassegna Stampa volevamo vedere appunto la situazione tra Recco e Rapallo in particolare che viene segnalata con traffico intenso e con rallentamenti e code se riusciamo chiaramente a documentare perché eccolo qua eccolo qua se possiamo vedere il rallentamento qua siamo proprio all'uscita di Rapallo sulla A12 a questo punto linea alla Radio Vaticana ascolteremo insieme il GR delle ore 8 e poi al termine alle 8 e 10 inizierà la seconda edizione della Rassegna Stampa di oggi grazie per l'attenzione a dopo buon ascolto primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana i titoli Fukushima il Giappone ricorda la catastrofe del 2011 dieci anni fa il disastro nucleare con migliaia di vittime covid superati 118 milioni di contagi nel mondo la denuncia della Croce Rossa aree remote prive di vaccini il Papa ieri all'udienza la fraternità sfida per l'Iraq e per il mondo sono le 8 buongiorno da Francesca Sabatinelli dieci anni fa l'11 marzo 2011 un terremoto di magnituto 9 con epicentro a largo della costa nord orientale del Giappone il più forte mai registrato generò uno tsunami gigantesco che travasse il paese un'onda distruttiva che danneggiò tre reattori della centrale nucleare di Fukushima causandone la fusione in quello che è stato il più grande disastro atomico dall'incidente di Chernobyl nel 1986 nel paese si è registrato un minuto di silenzio alle 14.46 locali per ricordare le migliaia di vittime Michele Raviar i morti furono oltre 19.000 senza contare l'aumento di tumori alla tiroide nella regione e oltre 160.000 residenti furono costretti a fuggire dalle loro case da allora il governo ha speso circa 250 miliardi di euro per ricostruire l'intera regione con oltre il 75% del suolo contaminato che è stato trasportato in luoghi di stoccaggio appositi alcune città come Fukushima sono tornate alla normalità tanto che proprio il 25 marzo da Fukushima dovrebbe partire la staffetta della torcia olimpica per l'inaugurazione delle olimpiade rimandate lo scorso anno a causa della pandemia in altre zone invece la situazione rimane difficile come spiega Monsignor Giuseppe Takami Arcivescovo di Nagasaki ancora più o meno 40 mila persone sono suolate e così le attività di città o di villaggio sono molto diminuite poco a poco stanno ristorando soprattutto la famiglia la comunità questo è più importante che le materie i casi di coronavirus a livello globale hanno superato la soglia dei 118 milioni sono le cifre della Johns Hopkins University secondo la quale dall'inizio della pandemia nel mondo sono stati registrati appunto 118 milioni di contagi e oltre 2 milioni e mezzo di morti un record si è registrato nelle ultime 24 ore in Brasile con 2200 vittime e quasi 80 mila contagi in Italia intanto si va verso ulteriori strette domani il Consiglio dei Ministri valuterà l'adozione di eventuali misure più stringenti anche nelle zone gialle e la Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezza Luna Rossa ha fatto il punto sulla distribuzione dei vaccini contro il Covid-19 nei paesi del terzo mondo fondamentale è la logistica per arrivare alle comunità isolate Marco Guerra ne ha parlato con il direttore del Dipartimento Salute della Federazione Emanuele Capobianco Accogliamo con grande piacere l'arrivo di primi vaccini da COVAX in molti paesi in via di sviluppo però oggi abbiamo lanciato un allarme dicendo che non è sufficiente che i vaccini arrivino negli aeroporti delle capitali i vaccini devono essere portati nelle braccia delle persone soprattutto quelle che vivono nei posti più remoti e per questo è necessario uno sforzo di logistica enorme uno sforzo di mobilizzazione sociale capillare la distribuzione sarà un momento critico per i mesi a venire Cosa manca? Personale? Posti per lo stoccaggio? Cosa chiedete? Un'attenzione a tutto il meccanismo che crea una campagna vaccinale che dalla mobilizzazione a livello sociale alla preparazione dei siti per per vaccinare alla costituzione di team mobili e chiaramente alle risorse umane che sono necessarie per portare i vaccini nei luoghi più remoti sempre più drammatica la situazione in Myanmar dove anche i ferrovieri partecipano al movimento di disobbedienza civile contro la giunta militare golpista dura la repressione della polizia condannata fortemente dal consiglio di sicurezza ONU la Cina invita al dialogo gli Stati Uniti hanno adottato sanzioni contro chi sostiene il regime la conferenza episcopale birmana per domani ha chiamato i fedeli a partecipare ad una speciale giornata di digiuno e preghiera per la pace ascoltiamo Emanuela Campanile in Myanmar la promessa e parola d'ordine dei manifestanti è combattere fino alla morte a migliaia continuano a scendere in piazza contro la giunta militare che il primo febbraio ha preso il potere con un colpo di stato si fanno così sempre più aspre le misure repressive della polizia e numerosi religiosi cattolici sono scesi in strada per cercare di placare gli animi e persuadere i poliziotti a non usare violenza come comunicato dall'agenzia Fides che riferisce inoltre le parole dell'ultimo messaggio rivolto ai fedeli espresse dal cardinale Bo arcivescovo di Yangon un nuovo Myanmar è possibile una nazione senza conflitti è possibile se questa nazione si trasfigura nella gloria che merita rendiamo la pace il nostro destino non il conflitto le armi sono inutili bisogna riarmarsi con la riconciliazione il dialogo in Libia ora dove il Parlamento ha votato ieri la fiducia al governo di transizione che dovrà traghettare il paese alle elezioni di dicembre intanto un blitz dei militari salva 120 migranti dai trafficanti Elvira Ragosta sono serviti due giorni di intenso dibattito tra rigide misure di sicurezza e ieri il Parlamento riunito nella città di Sirte ha approvato la composizione del governo presentata dal premier Deidba con 121 voti favorevoli su 132 parlamentari presenti sarà il governo di tutti i libici ha promesso il primo ministro in un breve discorso dopo il voto e ha poi aggiunto la Libia è una è unita la missione ONU in Libia e gli Stati Uniti l'Unione Europea e la Lega Araba hanno lodato gli sforzi fatti per arrivare a questo momento cruciale il governo composto da due viceprimi ministri 26 ministri di cui due donne dovrebbe giurare lunedì prossimo a Benghazi intanto un'unità dell'esercito libico ha annunciato ieri il rilascio di 120 migranti per lo più egiziani tenuti prigionieri e torturati da trafficanti di esseri umani nella città settentrionale di Bani Walid lì la stessa brigata la scorsa settimana aveva liberato altre 70 migranti scoprendo sei nascondigli il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha chiesto più accesso umanitario in Siria e il consenso del Consiglio di Sicurezza sulla questione il conflitto entra nel decimo anno e l'Unicef ricorda che il 90% dei bambini del paese ha bisogno di assistenza umanitaria l'appello è alla comunità internazionale perché faccia uno sforzo per portare la pace nel paese e sollecitare il sostegno per i più piccoli dopo gli scontri dei giorni scorsi con morti e feriti in Senegal è tornata la calma in attesa della nuova protesta annunciata per sabato gli scontri peggiori che il paese abbia mai registrato scoppiati a seguito dell'arresto del leader dell'opposizione Sonco nascono soprattutto dalla sofferenza economica della maggioranza del popolo ascoltiamo Don Angelo Romano esperto conoscitore del paese della comunità di Sant'Egidio il paese sta vivendo ovviamente una crisi economica molto grave dovuta al covid e c'è il fatto che per una gran parte dei giovani senegalesi questo oppositore è un leader non ci dimentichiamo che il Senegal è un paese di immigrazione vuol dire che ci sono delle difficoltà in gestione della fascia più giovanile della popolazione questa crisi è rischiosissima nel modo più assoluto il presidente ha fatto un discorso in televisione di 13 minuti ha detto anche di capire i giovani il loro disagio anche il governo senegalese ha detto accogliendo la proposta dell'opposizione che assisterà le famiglie delle vittime delle manifestazioni diciamo il tono è stato un tono pacificatore ovviamente da parte dell'opposizione non è che la mobilizzazione sia finita ci saranno altre manifestazioni però anche l'opposizione ha condannato gli atti mandalici anche se ovviamente ha accusato la polizia di avere ecceduto nella repressione ringrazio il signore per il buon esito della storica visita all'udienza generale di ieri Papa Francesco ha ripercorso le tappe del viaggio apostolico in Iraq invitando a continuare a pregare per quella terra e per il Medio Oriente il servizio è di Amadella Monaco dalla biblioteca del palazzo apostolico lo sguardo del Papa è rivolto all'Iraq paese che ha tanto desiderato abbracciare e ha visitato dal 5 all'8 marzo scorsi le sue parole sembrano accompagnate dai volti e dalle speranze delle persone che ha incontrato a Najaf nella piana di Ur a Derbil a Mossul a Karakosh e a Baghdad ho sentito forte il senso penitenziale di questo pellegrinaggio e nello stesso tempo ho visto intorno a me la gioia di accogliere il messaggero del Cristo il pontefice invita infine a pregare per l'Iraq dove un simbolo di resilienza e di futuro continua a portare frutto nonostante tutto in Iraq nonostante i fragori della destruzione e delle armi le palme silvono del paese e della sua speranza hanno continuato a crescere e portare frutto così è per la fraternità come il frutto delle palme non fa rumori ed è tutto per ora vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News da Francesca Sabatinelli in studio da Gustavo Messina in regia grazie per l'attenzione a seguire la trasmissione Radio Vaticana con voi ed eccoci qua in diretta per voi in diretta dagli studi di Tele Radio Pace io sono Marco Revello una saluta ad Alessandro Bavestrello che cura la parte tecnica quest'oggi in regia in questo 11 di marzo siamo arrivati a giovedì quindi seconda parte della seconda settimana del terzo mese del 2021 e andiamo a vedere quali sono i santi festeggiati oggi dalla chiesa si ricorda in particolare San Costantino Re e Martire la chiesa greca ma non quella latina riserva un posto importante tra i suoi santi al più celebre Costantino della storia cioè l'imperatore romano che riconobbe nel 313 la libertà ai cristiani insi un po' impuose quasi il culto cristiano a tutto l'impero e poi altri santi ricordati oggi San Sofronio di Gerusalemme San Teologio di Cordoba San Pionio di Smirne Beato Giovanni Righi da Fabriano Sante Uggens il Culdeo San Benedetto Milano San Domenico Cam Beato Giovanni il sacerdote martire Santi Marco e Alessio martiri Santa Rosina di Wenglingen Vergine martire San anzi Beato Tommaso Atkinson martire Santi Trofimo e Tallo martiri di Laodicea di Frigia San Vindiciano di Cambrea Ra Vescovo e San Firmano Monaco auguri a tutti coloro che oggi festeggiano il loro santo patrono il compleanno il lono massico qualche altra lieta ricorrenza in questo 11 di marzo che inizia con una situazione di cielo assolutamente nuvoloso qua sul Tiguglio anche se non è una nuvolosità come vedete sul mare verso l'orizzonte abbiamo ancora cielo sereno e non è una nuvolosità diciamo già formata già compatta è un inizio di nuvolosità che porterà ad un cielo coperto soprattutto nell'ultima parte della mattinata con l'inizio delle prime precipitazioni già appunto a cavallo tra la mattina e il primo pomeriggio come vedete verso Ponente già così anche la luce più cupa tutto si fa un po' più cupo verso Ponente e insomma è appunto l'antipasto per una giornata uggiosa nuvolosa e piovosa anche se le precipitazioni non saranno particolarmente intense colpiranno proprio qua il Levante più che il resto della regione e appunto si dovrebbero esaurire nella mattinata di domani quindi avremo comunque un tipo di tempo piuttosto perturbato dal pomeriggio fino alla mattina di domani poi un miglioramento con rotazione dei venti anche dai quadranti settentrionali quindi arriverà un po' di tramontana a schiarire il tutto e sabato dovremo avere una giornata piuttosto buona su domenica ancora ci sono delle incertezze con tempo variabile ma naturalmente ne parleremo meglio nella giornata di domani e ne parleremo sicuramente ancora meglio al fine edizione quindi verso il fine verso il fondo del nostro programma le temperature sono un po' aumentate rispetto a quelle di ieri su tutto il territorio regionale quindi abbiamo qualche grado in più sia sulla costa che negli entroterra questo è la risultanza del fatto che la rotazione dei venti è meridionale è verso sud quindi da sud arriva aria più umida ma anche più mite andiamo a scoprire la prima pagina di avvenire che titola covid spazza benessere che cosa è cambiato in questo anno di covid direi tutto dalle relazioni sociali alla ricchezza che ormai non è così diciamo diffusa ci sono delle categorie che stanno soffrendo moltissimo addirittura come numeri sono stati azzerati dieci anni di crescita sostenibile su salute e lavoro ma gli obiettivi ONU diventano anche quelli dell'Unione Europea il governo pronto alle nuove chiusure ma non ci sarà un lockdown nazionale generalizzato come lo scorso anno la curva dei contagi sale ancora e come abbiamo sentito anche purtroppo dalla Radio Vaticana aumentano anche gli ospedalizzati coloro che sono costretti ad andare in ospedale l'aspettativa di vita addirittura è scesa di 12 mesi più vaccini dall'Europa si faranno anche nelle aziende al sud si anticipa la stretta quindi molte regioni si autolimitano e poi c'è un altro anniversario dopo un anno di covid ma dieci anni anche dal tragico terremoto che ha fatto 15.000 vittime in Giappone noi ce lo ricordiamo soprattutto per l'incidente alla centrale nucleare di Fukushima o Fukushima nel 2011 terremoto tsunami e cedimento della centrale Fukushima un viaggio nella trappola nucleare e poi nel pubblico impiego la svolta di draghi formazione competenze aumenti il sì dei sindacati la prossima settimana il ministro Brunetta e i sindacati si incontreranno per stabilire i particolari di questa intesa che comunque è stata già siglata e che porterà ad una innovazione di tutto il sistema della pubblica amministrazione con nuove assunzioni ma anche con nuove responsabilità da parte dei dipendenti mezzosi di Enrico Letta per il PD resta il nodo congresso quindi potrebbe essere appunto Enrico Letta il nuovo segretario del PD che andrà a sostituire il dimissionario Nicola Zingaretti poi diagnosi condanna per i bambini autistici genitori da preparare questa è la prima pagina di avvenire vi segnaliamo anche il titolo dell'editoriale a firma Leonardo Becchetti il futuro e anzi il metodo del futuro virus e calma scusate virus e clima le luci da accendere quando si parla di fischi per fiaschi io leggo così allora andiamo invece adesso a vedere la prima pagina del secolo XIX Covid arriva alla nuova stretta Liguria a rischio arancione perché i numeri di questi ultimi giorni non sono belli soprattutto se c'è un po' di preoccupazione per l'aumento di ospedalizzati vaccini dagli orari alle forniture ecco i nodi del piano Ligure il gaslini crescono i casi dei bimbi per i bimbi dell'asilo e poi lo vedremo soprattutto più tardi nel collegamento con la redazione dove oggi ci aspetta Andrea Capitani domani il decreto Draghi ma dalla campagna alla Puglia alcune regioni hanno già adottato divieti più rigidi molti sprofonderanno in rosso la Liguria potrebbe tingersi di arancione però alcune regioni decidono prima delle decisioni della cabina di regia del governo di adottare delle misure ancora più restrittive rispetto a quelle attualmente in vigore domenica con il secolo mascherine chirurgiche in regalo ai lettori e poi prenotazioni scontro tra medici di famiglia e Liguria digitale nella prima giornata appunto ci sono stati vari incidenti di percorso incidenti che speriamo non abbia invece il team Ferrari con il nuovo gran premio e la nuova auto Ferrari SF21 sfumatori di rosso per conquistare il mondo speriamo che vada meglio dell'ultimo campionato dell'ultimo gran premio che veramente da dimenticare cosa che invece sta andando bene almeno abbastanza bene per Luna Rossa ancora sull'1-1 nell'American Cup con New Zealand appunto l'American Cup non è più un miraggio e poi nella settimana dedicata alla donna parla la grande tuffatrice Tania Cagnotto noi atlete costretti a scegliere carriera o famiglia e poi ci sono due grandi aziende genovesi all'avanguardia Leonardo cerca un partner per l'automazione e Ansaldo Energia parla l'amministratore delegato Marino cresce ora le rinnovabili dalla prima pagina del secolo notizia lottuosa che colpisce il mondo della cultura Ligure è morto Marco Sciaccaluga colonna del Teatro Nazionale del Teatro di Genova è stato per anni diciamo uno dei registi di punta e direttore della scuola di recitazione e poi autostrade dopo il Morandi fu valutato il patteggiamento l'intercettazione degli ex vertici di autostrada allora entriamo all'interno della cronaca locale del secolo XIX e poi parliamo delle autostrade in questi giorni soprattutto nella nostra prima edizione continuiamo a leggere di code ingorghi rallentamenti cantieri infiniti chiusure perché il casello di Chiavari è chiuso da oltre un mese molto evidente riaprirà speriamo bene sabato mattina alle 6 però non viene poi riconosciuto l'annullamento o neanche la riduzione del pedaggio quindi i tigullini stanno avendo un servizio pessimo e stanno pagando anche questo servizio normalmente che tra l'altro sappiamo bene che i pedaggi della nostra autostrada sono tra i più cari di tutta Italia code e disagio infiniti spunta la class action contro autostrade sono al via i lavori nel tratto di Levante che è gestito anche da Salt quindi quello tra Sestri e Deiva Marina che non è sotto l'egida della società autostrade ma anche qua ci sono tanti cantieri di lavoro i comuni esenzioni del pedaggio tra Sestri e Deiva quindi anche i comuni diciamo a cavallo tra la provincia di Genova e la provincia della Spezia chiedono che venga annullato il pedaggio così come è annullato o ridotto il pedaggio nel Golfo Paradiso per esempio tra Nervi e Recco sul tratto genovese fino ad Arenzano quindi perché da quelle parti sì e invece noi del Tiguglio e anche questa zona di confine tra Genovese e Spezzino no abbiamo dei disagi clamorosi per esempio da questa sera dalle 22 di questa sera alle 6 di domani chiude il tratto Genova-Nervi-Recco appunto in direzione in direzione Rosignano ogni sera c'è una chiusura ma questo mi importa poco perché c'è anche il coprifuoco ma soprattutto sono chiusi appunto i caselli sono chiusi gli allacciamenti tra 7 a 12 con chilometri e chilometri di coda che come abbiamo visto nella giornata di domenica veramente può diventare micidiale con ore e ore di attesa sulle autostrade nelle gallerie con grande anche rischio parche di interscambio vicino al casello a 12 Rapallo pronto a spostare l'isola ecologica il comune vuole dismettere l'isola ecologica dove i cittadini conferiscono i rifiuti speciali per fare di quell'area il parcheggio di interscambio funzionale alla volontà di riprendere il trasporto su navette elettriche tra l'autostrada e i centri abitati soprattutto Rapallo e Santa Margherita Portofino quindi c'è ancora questo progetto che era iniziato due anni fa ma naufragato abbastanza velocemente adesso si vuole un po' rispolverare chiaramente in una vista di una ripresa futura del turismo lavori anche al torrente San Francesco di Rapallo il comune verifica la regolarità delle offerte e poi entrato in funzione il nuovo punto rifiuti di Zoagli è un'isola ecologica dedicata agli esercizi commerciali lungo la strada metà tra la piazza e il cimitero e poi a Santa Margherita Ligure comune digitalizzato Santa Margherita volta a pagina e ancora Santa Margherita Rapallo sbarasso nel weekend l'appuntamento doppio appuntamento sia Rapallo che a Santa Margherita per le vendite di fine 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 stagione quest'anno le vendite non sono andate bene tra zone arancioni gialle restrizioni eccetera e si tenta tutto per tutto proprio nell'ultimo weekend possibile perché poi normalmente dopo la metà di marzo si inizia già con la vendita dei prodotti per la primavera estate però in questo caso è andata talmente male la stagione invernale che si tenta anche di piazzare cose appunto a buon prezzo però proprio per un po' svuotare i magazzini svuotare i negozi un anno davvero molto difficile per il commercio e poi parliamo del mondo lavorativo in generale perché insomma non se la passa bene nessun settore andiamo a vedere sempre dal secolo XIX inserimento socio-lavorativo attraverso l'arte e la cultura il progetto autonomia relazioni territorio espressività è tra i vincitori del bando promosso dalla regione Liguria il consorzio Tassano interventi integrati per soggetti a rischio di emarginazione Merioni e Ortica i luoghi i laboratori i percorsi insieme alla realtà della riviera quindi questo è un progetto che parte proprio dal Tiguglio con il consorzio Tassano per recuperare anche le persone con gravi difficoltà le macro aziende le macro azioni previste i luoghi della cultura i laboratori culturali e i percorsi culturali case sparse di Caperana cominciati i lavori di riqualificazione alla strada appunto di questa di questa parte alta di Chiavari verso Carasco strada che era dissestata già da parecchio tempo e poi via le nuove pavimentazioni per i giardini Mariele Ventre di Sestre Levante e ancora una notizia in breve incendio nel bosco l'origine dolosa a Moconesi bagni pubblici sanificazione garantita in piazza Torriglia a Chiavari e poi ancora la ricompensa che ritrova il 9 con Fischio appunto che si è perso un gattino di una famiglia andiamo adesso invece a leggere le notizie diciamo che riguardano particolarmente il periodo che stiamo vivendo il periodo Covid c'eravamo illusi a fine anno il 27 dicembre quando è partita la campagna di vaccinazione che tutto sarebbe andato liscio purtroppo non è così ma neanche per colpe dell'Italia o dell'Europa per colpe delle multinazionali che producono i vaccini che non sono stati di parola hanno venduto dei quantitativi che poi non sono riusciti a produrre o meglio li hanno evidentemente dirottati altrove perché da altre parti come negli Stati Uniti in Inghilterra eccetera le vaccinazioni sono super veloci non parliamo di Cina e di Giappone eccetera qua in Italia e nel resto dell'Europa invece le vaccinazioni stanno andando veramente a rallentatore e questo anche per colpa di chi magari doveva un pochino vedere bene le clausole dei contratti per capire se c'era dietro la sola oppure no ma adesso è inutile andare a fare processi è importante pianificare per il futuro e pianificare le vaccinazioni in fretta purtroppo ci sono dei problemi anche da questo punto di vista perché le operazioni hanno degli inceppamenti come quello appunto che è scattato da lunedì con le prenotazioni ai medici di famiglia di alcune categorie di lavoratori e alcune categorie di cittadini ma adesso c'è lo scontro su chi è il responsabile di questo inizio col piede sbagliato con la falsa partenza e scontro sulle prenotazioni ma ogni medico gestisce solo richieste prestabilite Costantini di Liguria digitale programma ok previsto un tetto al numero di pazienti mentre Zampogna e Diena della federazione dei medici di famiglia e Federpharma dicono no le vaccinazioni non si fanno così quindi evidentemente è proprio il metodo che viene criticato dai medici e vediamo un po' la situazione in questo momento di un aumento di contagiati un aumento abbastanza costante tutto sommato la curva in Liguria non è molto molto pronunciata è una curva abbastanza piatta però c'è un aumento progressivo e soprattutto in questo momento c'è un aumento anche dei pazienti ospedalizzati che sono passati a 45 a 6 strilevanti di cui 7 in terapia intensiva ma la cosa che preoccupa di più sono i contagi tra i minori tra i bambini 6 istituti scolastici chiusi in maniera preventiva 3 plessi di Ne del comprensivo di Cogorno il nido San Girolamo e la scuola dell'infanzia del comprensivo Rapallo e il nido Soracco di Chiavere 600 il totale degli studenti e del personale scolastico attualmente in quarantena quindi è chiaro che adesso bisognerà fare i tamponi per poi poter riaprire e rientrare i tamponi a ne per riaprire Rapallo lunedì torna a lezione e ancora appunto una piccola nota che arriva da Camogli consegna in ritardo delle dosi di vaccino caos davanti alla Croce Rossa dove appunto dovevano essere somministrati questi vaccini insomma c'è bisogno di un nuovo cambiamento il secolo ospita due lettere una di un giovane medico chiavarese il sistema caotico e lacunoso una falsa partenza e una la risposta invece della regione fase di rodaggio ma l'architettura funziona cioè siamo di fronte a un'ennesima modifica del piano vaccini che ogni giorno viene un po' rettificato modificato a seconda anche delle disponibilità di vaccino si dice che nel secondo trimestre del 2021 ne arriveranno molti molti di più di quello che sono arrivati nei primi tre mesi speriamo nel frattempo ecco la nuova versione del piano vaccini in Liguria sentiamo il servizio cambio di programma in vista sulle vaccinazioni anti-covid con l'allargamento del vaccino AstraZeneca agli ultra 65 anni il piano vaccinale sarà rivisto sia a livello nazionale sia a livello regionale il nuovo piano sarà ufficializzato dunque nei prossimi giorni dopo il passaggio in conferenza Stato-Regioni quello che è certo fino ad ora è che i medici di medicina generale somministreranno il vaccino ai vulnerabili e alle categorie individuate come prioritarie non più fine ai 65 anni ma fine ai 69 se la conferenza Stato-Regioni darà poi il via libera all'utilizzo di AstraZeneca anche per la fascia fra i 70 e i 79 anni le prenotazioni cominceranno mercoledì 17 marzo per la fascia ristretta 75 e 79 anni e le somministrazioni inizieranno la settimana dopo lunedì 22 marzo dal giorno seguente martedì 23 potrà prenotare anche la fascia 70 e 74 anni le modalità di prenotazione sono quelle già utilizzate per gli over 80 cupo sportelli portale web numero verde esclusi quindi gli studi dei medici di medicina generale che continueranno a gestire le prenotazioni per i pazienti vulnerabili e ultra vulnerabili in aggiunta alle categorie individuate come prioritarie insegnanti e forze di pulizia municipale le vaccinazioni saranno eseguite inizialmente negli ospedali e nelle altre sedi individuate dalle ASL attenzione perché la somministrazione del vaccino nelle farmacie al momento non sono ancora state avviate le farmacie che si sono attrezzate sono pronte a dare il proprio contributo alla campagna di vaccinazione attraverso spazi po' appositi ovviamente alla presenza di medici saranno probabilmente in grado dalla metà di marzo di intervenire con un numero importante di vaccini così come stiamo lavorando all'accreditamento delle strutture private di vaccinazione con questa nuova organizzazione la regione conta di raggiungere le 60.000 dose a settimana entro la fine del mese di marzo e come dicevamo prima attenzione grande attenzione in queste ultime settimane ultimi giorni è data al mondo della scuola ai ragazzi ai bambini perché abbiamo capito che con queste nuove varianti in circolazione in particolare la variante inglese c'è un grosso rischio di contagio anche nelle fasce della prima parte della vita che invece in una prima fase del covid erano state abbastanza risparmiate proprio per il momento appunto c'è grande apprensione per questa situazione come abbiamo visto 600 alunni in questo nel nostro territorio sono in quarantena ma ieri è stato fatto il punto in regione anche con i medici del gaslini di Genova allora ci colleghiamo con Andrea Capitani dalla redazione che ci spiega un po' questa nuova situazione buongiorno Andrea buongiorno Marco buongiorno a tutti sì esatto ieri è stato fatto il punto anche da questo punto di vista scusa il gioco di parole in quanto sono intervenuti in conferenza stampa due dottori dell'ospedale gaslini di Genova uno Elio Castagnola che è il direttore dell'unità operativa complessa delle malattie infettive secondo che ha tracciato il quadro in effetti come dicevi tu si è registrato soprattutto in questo ultimo periodo da dicembre in avanti un aumento dei casi nella fascia di età tra gli 0 ovviamente e i 12 anni è vero la fascia di età dei bambini della scuola dell'infanzia e delle scuole elementari sottolineava però il fatto che comunque è stabile è rimasto stabile il numero dei ricoveri sono stati 120 al gaslini dall'inizio della pandemia i ricoveri di bambini in età pediatrica uno solo è stato necessario anche il ricovero in terapia intensiva quindi da questo punto di vista è stabile il numero dei pazienti coinvolti con complicanze per il covid complicanze che si manifestano anche a 4-6 settimane dopo la guarigione questo è un altro dato che è stato messo in luce ma ne parleremo nel nostro telegiornale vi lascio adesso il contributo proprio del dottor Castagnola che traccia il quadro sui contagi sull'aumento dei contagi dovuti quasi sicuramente a detta sua a causa della variante inglese che è molto più contagiosa proprio in questa fascia di età sentiamo il contributo poi la linea torna allo studio l'incidenza dei ricoveri per i bambini è rimasta sempre molto bassa nel corso di tutti questi mesi già a partire dall'anno scorso e il trend tutto sommato si è mantenuto tale con una bassissima incidenza di casi gravi tenete presente che su circa 120 bambini che sono stati ricoverati da marzo dell'anno scorso abbiamo avuto un solo paziente che ha necessitato di un ricovero in terapia intensiva per la presenza di complicanze legate all'infezione quello che stiamo osservando invece in questo periodo è un aumento dei soggetti positivi in quanto pauci sintomatici ma che non necessitano di ricovero che si presentano in istituto sia come screening a livello del progetto scuola sicura sia come pazienti che giungono al pronto soccorso per la presenza di sintomi o che vengono ricoverati in istituto per altre patologie e che risultano invece positivi al coronavirus in questo caso abbiamo osservato sicuramente tra novembre e dicembre la seconda ondata che abbiamo visto anche nei soggetti adulti in queste settimane abbiamo una tendenza a una certa stabilità del dato che si mantiene comunque piuttosto elevato intorno a un 10% dei tamponi effettuati risultano essere positivi con variazioni rispetto all'età dei soggetti in questo caso i soggetti più piccoli diciamo in età dell'asilo e in età delle scuole elementari risultano avere dei tassi di positività più alti questo sicuramente anche come dire in qualche modo modificato dei dati di apertura o di didattica a distanza per le varie scuole le varietà scolastiche che sono state identificate ma potrebbe anche essere una spia della presenza di questa ormai famosa famigerata variante inglese che sappiamo essere come dire più infettante più contagiosa per i bambini più piccoli quello che però stiamo comunque osservando è che nonostante la presenza massiccia direi di questo virus il numero dei casi che richiedono un ricovero ospedaliero per il momento si mantiene costante quindi una maggiore infettività ma non una maggiore gravità dei bambini che si sono infettati e continuiamo a parlare di bambini di scuole ma fortunatamente con buone notizie perché arriva oltre un milione di euro per la sicurezza della scuola Umberto I di San Pier di Cannes andiamo a leggere sul secolo XIX quindi cambiamo argomento la regione conferma lo stanziamento a favore dell'edificio di Chiavari insegnanti di 5 istituti al corso di formazione di didattica lavorativa quindi arriverà oltre un milione di euro per mettere in sicurezza tutto il plesso scolastico Umberto I di San Pier di Cannes a Chiavari sempre a Chiavari Sportec a YLab sono partite le iscrizioni cartolina filatelica dedicata alle donne nella riviera di Levante l'8 marzo appunto delle poste di Rapallo e poi ancora parcheggi a pagamento il debutto difficoltoso a Lavagna c'è appunto questa nuova zona con questa fase un po' di interscambio tra i vari gestori e non ci sono più le macchinette non ci sono più i posteggiatori ma ci sono i famosi talloncini gratta e vinci diciamo così ma il problema è reperirli cioè andarli prima a comprare poi posteggiare insomma un'operazione un po' più complessa l'enoteca a Monna Bianca di Lavagna inventa l'uovo itinerante e poi l'apertura a sorpresa in piazza San Giacomo a Chiavari appunto andiamo invece adesso a leggere altri argomenti che arrivano dalle pagine del secolo XIX crollo del cimitero di Camogli sono spese le operazioni di recupero e da oggi è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche sabato si deciderà la data in cui appunto verranno ripresi i lavori per tentare di recuperare più feretri possibili più salme possibili il cimitero di Camogli deve essere messo chiaramente in sicurezza con delle opere importanti e adesso si studiano appunto le varie misure e contromisure maxi traffico di droga tra Albania e Tiguglio caccia ai campi coltivati l'indagine di Carabinia di Santa Varghetta che ha portato a sgominare una vera e propria organizzazione criminale che operava anche in collegamento con la Sacra Corona Unita però adesso bisogna trovare dove venivano appunto coltivati le materie prime poi scomparso Enrico Scano aveva 79 anni capitano di Vascello i funerali oggi alle 17 nella chiesa delle Saline di Chiavari purtroppo altri lutti Sestri Levante suora Angelica riferimento dei bambini si è spenta nella sua casa a Negrare in Valpolicella suora Angelica Malfatto aveva 91 anni ma per lungo tempo fino al 1998 ha svolto il suo servizio pastorale nella parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra a Sestri e ha appunto educato alla fede decine e decine di generazioni di bambini di generazioni e quindi verrà fatto un ricordo particolare domenica alle 11 in occasione della Santa Messa ultimo saluto anche a Enrico Sivori lavorò per Democrazia Cristiana e Ansnai Lavagna è in lutto i funerali oggi alle 15.30 nella Basilica di Santo Stefano di di appunto di di Lavagna poi ancora una messa per ricordare il vigile Larizza ricorderete il ragazzo chiaverese che faceva il vigile a Portofino ed è stato ucciso in un incidente stradale sette anni senza Stefano domenica 14 alle 11 nella chiesa di San Giuseppe di Ri messa in suffragio per Stefano Rizza il giovane agente di polizia comunale di Portofino che il 9 marzo di sette anni fa perse la vita in un incidente sulla strada tra appunto Portofino e Santa Margherita Ligure andiamo a parlare ancora di settimana santa con alcune precisazioni che arrivano dalla Curia in particolare appunto il Vescovo e il responsabile dell'ufficio liturgico Don Andrea Buffoli annunciano queste piccole modifiche che non cambieranno poi sostanzialmente i riti della settimana santa ma alcune cose che tradizionalmente si fanno quest'anno non verranno fatte proprio per evitare il rischio di contagi da covid in particolare sono due la via Crucis non avrà la processione così anche la domenica delle palme non ci sarà la processione le persone prenderanno direttamente posto in cattedrale così anche nelle altre parrocchie quindi non si faranno processioni e così anche la via Crucis del venerdì santo e nel nel rito invece della messa in cena domini del giovedì non ci sarà la lavanda dei piedi non ci sarà nemmeno lo scambio di candele nella veglia pasquale però tutti i riti della settimana santa a partire appunto dalla domenica delle palme vengono confermati quindi ci saranno saranno in presenza in persona con le limitazioni naturalmente di accesso alla chiesa e di distanziamento che ormai le chiese hanno da maggio dell'anno scorso ma appunto rispetto alla Pasqua dello scorso anno fortunatamente potranno essere fatte le celebrazioni alla presenza del pubblico l'anno scorso avevamo andato in onda tutte le celebrazioni in cattedrale che però non avevano appunto la partecipazione del popolo tutte le cose variano in questo anno del covid anche gli incontri alla società economica che si affaccia sul web nell'era covid il presidente Buruzzo dice la società compie 230 anni ma si adegua ai tempi e poi una barca nella chiesa di San Giovanni a Chiavari è un simbolo della quaresima ma anche un simbolo del periodo che stiamo vivendo ricordiamo la frase del papa l'anno scorso in piazza San Pietro il 27 marzo quando disse siamo tutti diceva tutti cioè tutta l'umanità su un'unica barca e da lì poi anche l'enciclica fratelli tutti quindi è chiaro che la barca è un simbolo importante nella storia del cristianesimo e sulla barca si arrivano gli apostoli con Gesù Don Manzi tre incontri con il teologo e il biblista e inizieranno martedì 16 marzo vengono organizzate dalle parrocchie d'ambito Chiavari Levi Camposasco e andranno appunto saranno realizzate in cattedrale a Chiavari dalle 19 alle 20 del martedì e poi riproposte nella stessa serata ma alle ore 21 su Telepace al canale 218 si inizia il 16 con l'incontro dal titolo alla fede cristiana la prova della sofferenza e poi le relazioni sospese la psicoterapeutica Sica sul bandolo social a partire dalle 8 di domani mattina appunto un incontro proprio su questo fatto delle relazioni quest'anno sospese Arturo Sica appunto uno psicoterapeo parlerà di questo argomento a questo punto invece noi andiamo verso il termine della nostra seconda edizione del Tg Rassegna Stampa di oggi parlando chiaramente di meteo perché ci riserviamo gli ultimi due o tre minuti proprio per dirvi quelle che sono le previsioni meteorologiche come vedete la situazione è di un aumento della nuvolosità rispetto alle belle giornate dei giorni scorsi avremo a che fare nuovamente con le nuvole con un flusso umido che porterà aria un po' più umite quindi ci sarà meno freddo anzi c'è stato meno freddo nella scorsa notte e questa mattina nel corso della giornata non ci accorgeremo di particolari cambiamenti quindi le temperature massime rimarranno più o meno stazionarie forse non andranno proprio sui 15-16 gradi ma rimarranno sui 13-14 che comunque sono sempre una temperatura piuttosto somente primaverile ma per quanto riguarda appunto la nuvolosità aumenterà nel corso delle prossime ore ancora adesso ci sono degli sprazzi di cielo sereno un po' di sole che filtra tra una nuvola e l'altra invece nelle prossime ore avremo un compattamento delle nuvole e anche la possibilità a partire dalle ore centrali verso la sera e anche la notte di precipitazioni che non saranno mai particolarmente intense saranno sempre a regime di piovasco insomma anche abbastanza sparse non diffuse quindi avremo una situazione di tempo urgioso ma non troppo perturbato questa situazione perdurerà per tutta la giornata di oggi la notte e la giornata anzi la mattina di domani poi in realtà domani le cose cambiano inizialmente da ponente già dalla mattinata qua magari cambieranno da metà giornata torneremo ad avere cielo più sereno e il sole perché appunto arriverà aria più fredda da nord ci sarà una rotazione dei venti e quindi spazierà via le nuvole quest'oggi invece i venti sono tra debole e moderati dai quadranti meridionali con rinforzi nel pomeriggio si attendono anche forti i venti sull'imperiese con possibili raffiche tra i 60 e i 70 km orari mare da mosso con aumento del motondoso a molto mosso ovunque attenzione sarà agitato in serata a Levante e Veronda da sud ovest quindi possibili mareggiate durante la notte temperatura in contenuto a diminuzione come abbiamo detto e domani invece con appunto questa giornata divisa in due mattina un po' più nuvolosa pomeriggio più sereno con sole avremo venti debole moderati meridionali poi con rotazione rinforzo da nord in serata ovunque quindi arriverà un po' di tramontana mare mosso molto mosso su centro e ponente ed agitato a molto mosso a Levante sabato una giornata discreta con cielo sereno e sole domenica ancora c'è un po' di incertezza sulla previsione comunque tempo variabile diciamo così domani saremo più precisi grazie ad Alessandro Bavestrello per la parte tecnica e regia tutti voi per l'ascolto Andrea Capitani in redazione e l'informazione torna su Teleradio Pace alle 12.45 con il TGT Guglioggi noi ci rivediamo domattina da parte di Marco Revello l'augurio di un'ottima giornata a tutti e e e e Grazie a tutti.